Ciao a tutti, sono Gabriele e con questa video recensione di oggi voglio descrivervi questa protezione in gel di silicone per iPhone 6 Plus. Questa custodia della Orzini, essendo super flessibile, garantirà una maggiore protezione al nostro iPhone 6 Plus. Essendo super flessibile, è facile da installare e come potete vedere si adatta perfettamente ai tasti laterali, al jack, agli altoparlanti eccetera eccetera. È piacevole al tatto ed è disponibile in tre differenti colori. Abbiamo il viola, il bianco e il nero che abbiamo appena visto. Sarà disponibile anche per l'iPhone 6. Anche con questa video recensione è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!